Non torna sorriso tra le fila del Gabice Gradara che sul manto del comunale Pierucci viene bissato dal Moie Vallesina. Un punto nelle ultime quattro gare per la compagine di Mister Cangini che inizia a sentire il peso della categoria ma ritrova la rosa al completo. Tra gli undici titolari preferito Simoncelli a Lavanna, buona la sua prova. Dentro anche Ceramicola costretto però a lasciare il campo dopo la mezz'ora a causa di uno stiramento alla duttore, a suo posto Arduini. Meglio i primi 45 minuti per gli ospiti con muratori che al decimo da calcio piazzato sporche guanti di Cerioni. Dall'altra parte la serpentina di Minotti viene frenata da Ciavaglia. Al ventitreesimo allora provano a cercarsi gli adriatici, Ciavaglia mette in mezzo girata di prima di Costa che sfila però a lato. Ancora rosso-blu qualche minuto più tardi con la punizione di Tebaldi che tenta lo schema ma senza successo. Alla mezz'ora scendono dalla sinistra gli ospiti e allora Costa che prova a servire alla sua destra Simoncelli il cui sinistro di prima intenzione è Preda di Cerioni. Il Moie reagisce con questa conclusione fuori misura e si va così negli spogliatoi sul risultato di 0-0. L'approccio a rientro dagli spogliatoi per gli adriatici non è quello giusto e dopo appena tre minuti il Moie Vallesina trova il pertugio tra il legno e i palazzi con Birarelli che sigla il gol del vantaggio. Risposta rosso-blu fidata a muratori, facile per Cerioni. A centrocampo malinteso fra Costa e i Mediani ne approfitta Mastri che guadagna metri e dai 35 lascia partire un bolide che si stampa sul legno pronto di testa alla ribattuta V che si divora il gol. Nuoviamenti locali in pressing con il neoentrato Naciariti che sfila la retroguardia fuorigioco non segnalato ma è Terenzi prima e Palazzi poi a tamponare. Le squadre si allungano ed è ancora il Moie ad impensierire con V per Naciariti che si allunga troppo il pallone. Il Gabice gradara prova allora ad allentare la pressione ma è fievole il tentativo di Tebaldi. Rispondono i locali con la punizione direttamente per Palazzi. Al 35esimo si fa vedere Simoncelli, azione fotocopia. Al 38esimo dalla bandierina Muratori sul primo palo deviazione si iluro di Tebaldi che vola alto. I giochi sembrano conclusi e invece al 43esimo c'è ancora spazio per la seconda rete dei locali con Naciariti il cui diagonale mette definitivamente la parola fine alle sperimenti. Anze del Gabice gradara al comunale di Maiolati e Spontini, Moie e Vallesina a due, Gabice gradara a zero. Si chiude un novembre nero per i rosso-blu impegnati sabato 3 dicembre alle ore 14.30 allo stadio Maggi di Gabice Mare nell'ostica sfida con Lilario Lorenzini. Grazie. 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 Grazie.